a tutti benvenuti sul mio canale piccolo video per presentarvi una nuova iniziativa che ho creato non su youtube ma su telegram perché qualche giorno fa ho aperto un canale che si intitola chiacchiere su fumetti bonelli e l'ho già presentato sulla community di youtube solo che ci tenevo a fare un piccolo video in realtà avevo preparato uno short solo che non riuscivo a condividere lì i link probabilmente sbagliavo io non lo so comunque ne approfitto per per dire due cose e velocemente con un con un piccolo video durante questi due anni di vita del canale youtube ho visto che progressivamente sono sempre aumentati di più i commenti sul canale e spesso soprattutto per quanto riguarda il mondo bonelli ho trovato tantissimi botte risposta tra appassionati sia con me che con altre persone proprio perché ci tenevano ad approfondire qualche aspetto legato una storia a un evento particolare un personaggio purtroppo questo oltre a portare tantissimi commenti di cui vi ringrazio perché vuol dire che che tenete i miei contenuti e comunque c'è molta condivisione però allo stesso tempo è limitativo perché youtube è una piattaforma che ti permette sì di emettere dei contenuti eventualmente si può fare qualche live infatti quando le faccio principalmente scusate principalmente sono fatte con l'obiettivo di poter parlare in maniera più 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 approfondita con le persone però a parte questo si può fare poco altro e quindi ho pensato che partendo dalla pagina youtube e con le con la piccola diciamo popolarità che posso avere col mio canale di creare uno spazio su telegram dedicato al mondo bonelli che si chiama chiacchiere su fumetti bonelli e che al suo interno ha anche dei sottogruppi dedicati a singoli personaggi in cui poter approfondire in maniera più specifica con delle conversazioni più lunghe con delle chat e degli aspetti legati a delle testate delle storie dei personaggi un'iniziativa mostrare delle collezioni foto di qualche albo insomma qualunque cosa sia mi faccio promotore visto che ho la possibilità avendo il canale youtube di di poter creare un minimo di collante tra le persone e poi però all'interno di questo gruppo e dei sottogruppi che si che si sono creati e che col tempo spero si incrementa si implementeranno di potersi di poterci poi ciascuno di noi autogestire perché il canale aperto nome mio e ci metto la faccia però vorrei che andasse avanti per la sua strada ovviamente nel rispetto delle regole rispetto della decenza ma questo lo dico ma forse non è neanche necessario perché le mie community è molto e molto sana e le persone sono molto civili ed educate e quindi potete trovare il link sotto questo video anche sulla community si chiama il canale chiacchiere su fumetti bonelli e spero che vi scriviate numerosi in modo che si possa parlare e imparare come sempre qualcuno dagli altri perché è la cosa che più mi piace di aver aperto il canale su youtube e fare nuove esperienze su fumetti che magari non leggiamo non collezioniamo a proposito presto farò un video su zagor parlando di proprio di fumetti che solitamente non leggo e niente vi saluto spero che vi iscriviate perché ci tengo molto a questo progetto e ci vediamo su youtube e se volete anche sul canale telegram chiacchiere su fumetti bonelli a presto